C'è il primo video di Kelenza? C'è il primo video di Kelenza? C'è il primo video di Kelenza? Certo! Challenge accettato! Ah che palle però, ho finito subito le munizioni e non ne ho altre! Cos'è? Connessione telepatica, beh certo! Sì, ma credo che continuerò a muovermi per evitarlo! Eccoci qua! Sono tutti incazzatissimi, sono tutti potenziati, hanno un sacco di vita extra! Meglio andare, fermare Kelenza e poi ci pensiamo! Eccoci qua! Quanta luce! Spero che la nostra build sia buona, sia adatta per questa situazione! Perché, onestamente, non so cos'altro fare! Ci siamo trovati belli in difficoltà, questo DLC, eh! Eh, lo vedo! Da fastidio persino a me! Credo che sia là sopra! Sì, cadenza! Ma queste cinematics sono bellissime! Ma se vai là sopra? Eh, appunto, bravo! Minchia! Oh, la madonna! Che furia! Porca troia! Ti dispiace spararle in faccia? Forca troia! No, non dirmi che si è trasformata! Vaccabòia! Vaccabòia! Ehi, Grace! Hey, sono con te! Ricordi chi sei! Danciate a tutti! Grande Grace! La piazza è in ovunque! E' questa grande piazza è la chiamata! Posso ridurre la piazza, ma non per lontano! Devi matare! Una volta e per sempre! Grugnito di scherno perché lui è grosso enorme! Col cazzo che lo sposti! Destruirlo! Destruirlo l'infeccio! Destruirlo l'infeccio! Io credo che non possiamo ferirlo! Lo sapevo! Eh, in qualche modo! Vuoi vedere in qualche modo come lo sovraccarico? Orca miseria! Eh, ma va! Chi è il genio che ha causato Tutto sto casino? Se continuo a muovermi a destra e a sinistra Ce la dovrei fare comunque Ed evitarlo Ecco fatto! Ecco fatto! Dai! Perfetto! Ok, aspetta! Dove sei? Preso! Eh, non funziona! Un attimo! Dov'è? A meno che... Perfetto! Ma levati tu! Ah, ok! Perfetto! Allora l'ho colpito! Con tutto quello che ho! Dove sei? Schifido lurido! Ok, ho bisogno di qualcosa Che gli faccia più danno Però mi sembra che questo non lo colpiva Dov'è? Eccolo E infatti Il sanguinamento su di lui non funziona Eccolo Proviamo, proviamo Col fuoco E continua un attimo Mi servono altre sfere Eccolo Arrivo, arrivo Arrivo, arrivo Ah, perda Ok Per fortuna Sono riuscito a evitarlo Eh, ma ci dobbiamo avvicinare qua Fra Se no come... Come vi attivo Forza Certo Certo Ops Merda Anche quello grosso adesso Allora Allora Porca troia Ecco qua Via Forza 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 Vieni Vieni qua Bravo Vieni anche tu Addio Ok, quanto devo fare ancora Prima di Di potergli Lanciare Credo sia pronta Perfetto Però dobbiamo fare anche dall'altro lato Ecco qua Vieni Vieni qua Forza 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 Venite Forza 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 Dov'è il tizio grosso? Perfetto Sta per esplodere Eccoci qua Dov'è? Dov'è? Dov'è il tizio Carnoso? Eh, siete Siete tutto Ma non ti vedo Devo lanciarla Di nuovo sullo speaker? No, meglio tenerlo il fucile Dai, ricarica Forza 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 Ricarica Dov'è andato ora? Dove sei? Eccolo Ok, teniamola da parte ora Aspetta Dai Ah Dov'è ora? Eccolo Dov'è? 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 Eccoti Ok Dobbiamo andare Nell'altra zona Ora immagino Sì, sì Li ho visti Li ho visti No, tu Ok Andata Ok, belli Tutti qua Forza Non ci capisco un cazzo Di quello che sta succedendo Ma credo sia pronta Forza Forza Merda Ok, dietro la cassa almeno sono Dietro la cassa ero sicuro almeno Esplode? No, col cazzo Ovvio Allora Di nuovo Quelle di fuoco Dove Anzi Facciamo così Furia No, 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 no Non questo La furia di Emma Che questo Fa danno ad aria Così diamo anche il tempo A tutti di respawnare Ecco qua Meno male Dai, anche dall'altra parte Ah, cacchio Mi ha esploso Prima che potessi fare qualsiasi cosa No Finché resto qui Non mi puoi fare nulla Ok Ti piacerebbe, eh, scemo Ok, la sfera L'ho presa Andiamo di nuovo Nell'arena C'è il pavoso qui Ok, bello Dai, belli Ho bisogno Di ricaricare Anche la mia vita Ok Di nuovo Spada elettrica Mi dispiace Non siamo Compatibili Io e te Devi startene lì Tutto elettrificato Dove appare ora Chi è? Ops Ho bisogno Di un bel po' di energia Ops Cura Mia Dove appare ora? Eccolo Merda Merda Cosa posso usare Per fargli tanto male? Cosa possiamo usare? Questo? No Gli artigli Sono l'opzione migliore Ovviamente E niente Mi serve Mi serve Mi serve Delle cure Ora Devo andarmi a curare E se non c'è gente Come faccio? Se non c'è gente Da poter uccidere Come faccio io? L'unica Prende tutte le bibite Che trovo No, no, no Devo Ecco qua Così forse Riesco anche a ricaricarmi Un attimo La salute Perfetto Perfetto Devo continuare a correre qua Devo lasciare fare tutto alle api Per il momento Dove sei? Ancora una volta Devo farlo Mamma mia Qua è stato veramente pericolo Purtroppo Purtroppo Ho sfruttato male tutto No Le munizioni queste Me le devo tenere Sono scemo Ma via Ok Non so cosa sia successo Ma è stato un gran bel botto No Ok Ok Devo tornare A velocizzarmi Merda Merda No Da dove è apparso Non l'ho visto Porca miseria Ce l'avevamo fatto Fino ad ora No Ti prego Non dirmi Che devo rifarmi Tutta la battaglia Ora No Ti prego Da capo Devo rifare tutto da capo No È morto È morto Finalmente No è andato Porca miseria Speravo fosse l'ultima Ok Siamo di nuovo All'ultimo speaker Siamo di nuovo All'ultimo speaker E a questo giro Ho messo la molotov Invece che la granata Per un semplice Motivo Ovvero Che quando lui È lontano Posso continuare A fargli danno Col fuoco Almeno Mi cazzo Sai qual è la vera Problematica Di questa battaglia Che io Non vedo Un cazzo Levati No La bibita La bibita Vedete le male Tutti Ok Prendila Ok vai Torniamo al palco principale Torniamo al palco principale Che è la zona Più facile da evitarlo Sì 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 Ora lo colpisco Colpito Oh Finalmente Mamma mia Certo Come no Potresti rompere quel teschio Per favore Per sempre Spaccarlo in Centomila pezzi È stata bella tosta Perché ovviamente Boss fight finale Tutto quello che vuoi Tanta vita Tanta resistenza Ma tutti I cacchio di zombie Erano molto più resistenti Onesto È stata molto più difficile Questa battaglia finale Che quella originale Del gioco Però A livello di trama principale Non è successo niente Wow Finalmente la luce Però dicevo A livello di trama principale Non è successo niente La figlia del dottore Tutto il resto Cadenza Non riesco a parlarti Ecco Madafaculo Eh ho visto Familiar Familiar? Come? È meglio che non lo dire La tua canzone È Strana Non lo so Non lo so Ma Sono un protagonista E se ne scompare La dietro Vaffanculo Beh Finisce così Trova Grace Posso dirlo È stata una battaglia Veramente dura È stata veramente dura Questa battaglia Ma Nonostante tutto È stata soddisfacente Più che altro Veramente Il buio Mi ha reso Tutta sta battaglia Letteralmente odiosa Non si vedeva Un cazzo Ma d'altro canto Dove abbiamo trovato Molta semplicità Magari All'interno del gioco Normale E qua Abbiamo avuto Un picco di difficoltà Bello tosto Che anche un giocatore A piena vita A pieno livello Tutto quanto Tutte le abilità Tutto quello che vuoi Comunque Ha avuto la sua Bella difficoltà Posso però dire Che almeno in questa battaglia Sono stato contento Che non c'erano macellai Ah Ti pareva Ora sei un nemico Come tutti gli altri Fra Non conti nulla Ah Vedi Dove non c'erano Macellai Ora ci sono Macellai C'è sempre Qualcosa Che non va Una chiave Chiave del Tordai Perfetto Ricordi di carne Mi sembra giusto Per fortuna Che in questa epopea Non c'era lui Chef di egg Cos'è Chi è Che è Perché Ma porca puttana Basta Sti macellai Sto DLC È fatto solo Di macellai Da tutte le parti Dov'è lo chef Dov'è andato Che sicuramente È esploso Chiave Del frigo Egg Oh abbiamo trovato Un bel po' di chiavi Comunque Grace Tutto a posto Wow Finalmente si fuori Dallo scantinato Sì e ci hai salvato Tu Ma scusa un attimo Questo quadro qui Mostra lo zombie Che abbiamo appena combattuto Com'è possibile Che tu abbia Un poster Di una cosa Che ancora Non era successa You did it The beat was consuming me But you pull me back It would have consumed everyone All these answers They just ask more questions I know we're Newman The voices I heard were other Newman From long ago Maybe the future too I'm not sure They started to explain But when you stopped the beat The voices stopped too We were all linked When the beat broke through It let the Newman in too E meno male Resterò qui Mi sembra giusto Aspetterò il prossimo gioco Chi lo sa Zitti e morti Sparaseghe No no nessun rancore Mi sembra giusto Grace Non parliamo neanche dello sparaseghe Ebbè Grace Grazie di tutto È stato bello Eh come sono diventato Eh effettivamente va avanti la parte di storia No non ci siamo mai tutti sulla stessa lunghezza sorella Detto ciò lo sparaseghe Che nome altisonante 3 per 1 Carica al massimo per sparare un potente colpo danni aumentati che faranno affetti gli zombie Tocca il grilletto per il colpo che infligge danni agli arti aumentati Ricaricante Quando riponi quest'arma nella ruota questa si ricarica gradualmente Oh beh non male Niente di eccezionale ma meglio di nulla D'accordo mettiamogli questa Dai voglio provarla prima di chiudere anche questo gioco Lo sparaseghe Mamma mia Che roba da dead rising Realizzata da Grace Questo lanciatore multifunzionale personalizza a sparare la maiseghe Industriale in grado di abbattere anche i più massicci criptidi ostidi Come faccio a caricarlo più volte? Aumenta il danno in modalità di mira Colpisce le teste e gli arti Certo Carica al massimo per sparare Ah nel senso proprio avere la carica massima di colpi In quel senso Vabbè lì c'è un'urlatrice Ah Devo tenere premuto Che figata Porca troia Bella arma sorella Beh anche un colpo però fa abbastanza male eh Allora se la carichiamo al massimo Madonna bellissime le seghe che rimangono su eh Se la carichiamo al massimo fa un sacco di male È come sparare appunto Un colpo da tre in un colpo solo Se miriamo aumentiamo anche di più il danno Porca miseria Ma in realtà anche se non Se non batonda mia esplosa Bellissima Bellissima arma Mamma mia ma star ma Porca miseria Porca miseria Beh come premio finale Diciamo che Che lo apprezzo Quanto mi costa fare le munizioni però Giusto per sapere Tanto purtroppo Non posso dire che la useremo ancora per molto Visto che il gioco È finito Ah Non ho le munizioni E immagino che dovrò comprarle allora Eccole qua infatti Lama per la sparaseghe Eccole qua Parti di metallo e lame Facili E me ne fa un botto Quindi signori A meno che Non annuncino qualche DLC a sorpresa Qualcosa in più Non lo so Questa serie Ha raggiunto La sua fine Con grande soddisfazione Il gioco mi è piaciuto Onestamente Io ho adorato il primo capitolo Riptide Un pelo meno Ma comunque è stato bello Però Non come il primo Questo è stato Molto divertente Molto purtroppo Sbrigativo sotto certi punti di vista Molto veloce su alcune cose Però la trama era bella Però è È inconclusionata È palese che ci sarà qualcos'altro Che sia un DLC Che sia qualcos'altro Non so cosa aspettarmi In teoria hanno detto che I DLC questi erano E questi finiti Quindi ragazzi Aspettando qualcosa Nel prossimo futuro Io vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo A una prossima serie Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti